C'è la possibilità di far dichiarare monumento la roverella di Moscufo e quindi la possibilità di evitare abbattimento? Sì, questa è una possibilità che prevede la legge 10 2013 che istituisce un elenco degli alberi monumentali che hanno una speciale tutela a livello regionale e nazionale. E quindi noi abbiamo fatto proprio questa proposta, sarebbe a dire non in maniera artificiosa ma proprio per le valenze di questa quercia isolata, unica, che porta d'ingresso alla zona industriale di Moscufo, che chiunque abita in quella zona già conosceva, quando era bambino l'aveva già visto perché era lì da più di un secolo. Il gruppo di lavoro dei proponenti era formato dall'architetto Neida Marin, ambientalista italo-venezuelana, la vicepresidente di Italia Nostra Pescara Caterina Artese, il presidente del comitato Saline Marina PP1 Giuseppe Di Giampietro, l'architetto Sonia Puca, professionista di Moscufo e Alberto Colazzilli, presidente di Conalpa. Una soluzione di buonsenso anche perché abbattere la roverella per i proponenti non risolverebbe il problema di fondo di una rotonda fatta male. Il problema non è l'albero che è pericoloso, il problema è che è pericoloso la rotatoria, questo l'abbiamo già scritto, però questo tema si risolve in termini progettuali, intanto considerando l'albero una risorsa che va messa magari al centro della rotatoria valorizzando la sua posizione, il suo ruolo storico, la sua presenza che è significativa, come già succede in altri posti al centro della rotatoria addirittura ci sono gli aerei, se andate a vedere a Pescara vicino all'aeroporto c'è un aereo dentro una rotatoria. Il problema del pericolo si risolve non sulla rotatoria o togliendo eventualmente gli ostacoli, ma invece prima trattando la strada in maniera tale che le persone arrivino a bassa velocità, siano canalizzate, si rendano conto del posto e anche la presenza dell'albero ben illuminato renderà molto più visibile il fatto. Le soluzioni esistono, noi chiediamo di discutere queste cose qui, a cominciare da riconoscere che quest'albero è una risorsa, non un pericolo.